Buon pomeriggio anche se direi sempre buon pomeriggio, buonasera mister, visto che sono le 3.10 qui in italia mister, master, maestro o semplicemente David Lynch it's December 6th 2021 and it's Monday here in Naples 48 Fahrenheit around 9 celsius e questo significa che penso proprio che, cioè no, non è proprio quella giornata veramente, veramente, veramente mite come in questi giorni, in questo periodo infatti direi che ci sono diversi gradi in meno tendenza ormai oggi credo che non pensavo a niente in particolare forse alla mia quarta parte del tributo per il compleanno di quest'anno il tributo di quest'anno per il compleanno 65 anni di Julie Cruz ma riparlo meglio penso domani e addirittura dopo domani perché appunto questa parte che dovrebbe essere l'ultima forse ci aggiungerò un extra questa parte ricevo la caricherò credo domani o massimo mercoledì se tutto va bene quindi sul resto al momento non mi viene niente in mente ma se mi viene in mente appunto scrivo in descrizione anyway see just see from the window veramente è già visibile così once again unfortunately once again ancora una volta quell'atmosfera di sempre di novembre inutile niente da fare e quindi ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro ma obiettivamente la vedo impossibile but as always we will see said this so from the mythical window that I carried the curtain beautiful beautiful si vede benissimo oggi ma comunque è un po' più oscura a causa ovviamente di questo brutto tempo and it's green roller shooter anche se appunto non questo c'è in questi giorni non lo dico con enfasi perché il tempo è quello che è e and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 e have a great day in all the people who follow the channel and the reports e un saluto particolare a Molly che è stata una commentatrice abbastanza assidua in questi giorni ma sempre a tutti un saluto a tutti so so again have a great day in all these people and everyone too un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto